parte terza 1 signore onorandissimo l'origine non menché l'istoria della patria nobiltà sapere tornare in mente non deva ciascuni specie in ta tempi che la vengono stimando da sezzo in quella vece che tutto si dagli esteri ammirando si viene dal ricapo narrarla dopo che il mugno silvilla bianca ed altri famosi a sé recarono in mortalità sbrancandone quel denso velo chiarirsi potrebbe un fuor opera se quei valentuomini per legge di natura arrestati non fossero sei tempi che vissero ma senza che il proseguimento insina nostri ultimi giorni un altro oggetto ne rischiara la convenienza vogliamo dir la rarezza di quell'opera in signi cui non ha tutt'è data acquistare quindi è perciò all'oggetto che tra le mani dell'universale una nuova opera messa in giornata negisse abbiamo divisato dettarla e a tal che non ci si imputi in superbia a tanti imprese azzardarci non vogliamo far senza di porre qui bocca sulla scienza che della raldiche discipline noi succhiamo una collate sì come quelle che a discendente di non ultima tra le siccole blasonate famiglie famiglia più convenissero lusingarci da indipossiamo che la merced uno studio indefesso non menché la paziente compulsione d'archivi importanti e zeppati di documenti solo noi dato esaminare sarà ci dato fornire l'assunto come disse il poeta senza infamia sicuro forse con lode come che cultore di storici studi ed amante delle patrie glorie vostra signoria onorandissima echeggiando al nostro proposito negar non vorrà nel suo ambito concorso la onde viviamo fidenti della sua firma nella scheda dove le soscrizioni si ammozzolano bassa idea di guadagno non spronaci la dio merceno tessendo non averne poi uopo non però di manco onde coprire in parte le pure semplici spese abbisogniamo il suo appoggio del che dormiamo in guanciale scheda di soscrizione all'opera del cavaliere don eugenio uzeda dei principi di francalanza e mirabella duchi doragua conti della lumera eccetera eccetera già gentiluomo di camera con esercizio di sua maestà il re ferdinando secondo medagliato dell'ordine ottomano del nisham ifitkar da sua altezza il bei di tunisi membro di varie accademie eccetera eccetera intitolata l'araldo sicolo consistente nell'istoria documentata dell'origine sorte vicende delle nobili famiglie siciliane da tempi più oscuri fino al giorno d'oggi ben tre volumi di cui il primo testo il secondo alberi genealogici il terzo stemmi usciranno una dispensa ogni mese prezzo di ogni dispensa lire 2 associazione all'opera completa lire 50 nota bene chi procura sei soscrizioni avrà diritto a pubblicare il proprio albero genealogico chi ne procura 12 avrà tutto sì lo stemma colorato questa circolare diffusa centinaia e centinaia di copie provò ai concittadini del cavaliere don eugenio che egli era ancora tra i vivi nessuna notizia di lui arrivava più da anni sulle prime aveva scritto ai parenti chiedendo quattrini in prestito per grandi e sicure speculazioni ma poiché gli rispondevano picche aveva finalmente smesso che cosa avesse fatto tanto tempo dove fosse stato non seppe nessuno nessuno di quelli che andavano a palermo lo vide mai nessuno udì parlare di lui e insomma l'ignoranza dei fatti suoi fu così grande che molti avevano supposto fosse passato zitto zitto al mondo di là la posta non aveva finito di distribuire il manifesto dell'araldo sicolo che arrivò l'autore in persona mancava da tanti anni ed era naturalmente invecchiato toccando ormai la sessantina ma stranamente imbruttito anche e quasi irriconoscibile sul viso dimagrito ed emaciato il naso sembrava essersi allungato come una tromba una proboscide un appendice flessibile atta a frugare in mezzo all'etame la caduta dei denti affossando la bocca aveva contribuito anch'essa a quell'apparente crescenza che dava tutto il viso un aspetto basso ignobile e quasi animalesco indosso la sordidezza della camicia e dell'abito a coda troppo lungo e troppo largo con un panciotto che era stato bianco e l'untume del cappello che pareva sudasse dal troppo caldo lo facevano prendere per un servitore di trattoria o per un bigliardiere di visca la gotta che gli tormentava i piedi lo costringeva ad un'andatura storta e strisciante prese alloggio in un albergo di infimo ordine ma le prime persone alle quali si diede a conoscere giacché nessuno lo riconosceva e gli disse che non aveva trovato camere disponibili al grand hotel e che partito improvvisamente da palermo non aveva potuto portare con sé i bauli i bauli come pronunziava la sua prima visita fu per il capo della famiglia ma giunto dinanzi al portone del palazzo vide con stupore che era chiuso col solo sportello aperto datosi a conoscere come zio del padrone al nuovo portinaio che lo squadrava da capo a piedi sentì rispondersi che non c'era nessuno né il principe né la principessa né con salvo partiti tutti il signorino in viaggio da quasi un anno i padroni per togliere dal collegio la signorina e farle vedere un po di mondo non bene persuaso come uno avvezzo ad essere mandato via il cavaliere alzava gli occhi alle finestre pareva voler guardare attraverso i muri quando su di salutare eccellenza vostra eccellenza qui era pasqualino riso il cocchiere anche lui era andato giù non sfoggiava gli abiti eleganti gli anelli e le catene d'oro d'un tempo tutti partiti eccellenza la casa è vuota quando torneranno non sappiamo eccellenza forse per le vendemmie i padroni e il principino ah il principino non per ora donna e eugenio i cui occhietti luccicavano di curiosità sul viso affamato s'accomodò sulla seggiola senza spalliera che il portinaio teneva dinanzi all'uscio del suo stanzino domandando perché che c'è di nuovo e a poco a poco pasqualino rivelò la verità il signorino non poteva più stare in casa almeno per un certo tempo a cagione dell'urto continuo col padre dai tanti dispiaceri il signor principe era caduto ammalato quanto a don consalvo non si poteva dire che si affliggesse tanto da farne una malattia ma neanche lui doveva ingrassare a furia di dissapori e di diverbi il meglio perciò era che se ne stesse un pezzo lontano così il principe avrebbe trovato tempo di placarsi di persuadersi che in fin dei conti il figliuolo non aveva ammazzato nessuno l'accusavano di non interessarsi alle faccende dell'amministrazione di trattare male la madrigna ma vostra eccellenza sa come è fatto il signor principe piuttosto che dare ad altri i registri dei conti o le chiavi della cassa si lascerebbe tagliare tutte e due le mani alla principessa il signorino non vuol bene come una madre questo è vero madre però ce n'è una sola dico bene cavaliere la madrigna basta che la rispetti e rispettarla alla rispetta la ragione vera del dissenso era pertanto un'altra che il signor principe non voleva mettere fuori i quattrini e il principino invece spendeva da signore perciò il signorino aveva firmato qualche cambialetta e ogni volta che i creditori ne presentavano una al signor principe pareva di un escampio liberi tutti quanti che gli pigliasse un accidente secco e voleva perfino farlo arrestare come se una cosa simile potesse dirsi per puro semplice scherzo in casa francalanza fatto un gesto di indignazione pasqualino prese un'altra seggiola nel bugigattolo e sedette accanto al cavaliere il quale scrollando gravemente il capo trasse di tasca mezzo sigaro spento e chiese un cerino al cucchiere allora vostra eccellenza permette e accesa la sua pipa riprese il filo del discorso per chi dunque aveva ammassato tante ricchezze il signor principe per se stesso no già che non ne godeva per la figlia neppure perché una volta maritata la signorina teresa avrebbe preso la sua dote e buonanotte dunque per il figlio allora perché tenerlo a corto di quattrini un giovanotto come il principino di mirabella aveva bisogno di tante cose doveva per necessità far tante spese il padrone non lo capiva lui che giovane era vissuto da monaco ma siamo tutti fatti ad un modo e poi i tempi erano mutati i signori dovevano spendere se volevano essere considerati se no il primo ciabattino arricchito si reputava da più di loro e nel rammarico di non poter più guadagnare come un tempo sulle spese intime del padroncino pasqualino qualificava arditamente di porcherie le lesinerie del principe diceva che per una lira colui avrebbe rinnegato il figliuolo lasciava intendere per trarre dalla sua il cavaliere che il capo della casa se fosse stato un altro avrebbe dovuto aiutare i parenti che non erano ricchi quanto lui don eugenio fumando e sputando con le gambe magre da don chisciotte accavalciate chinava il capo dava ragione al cucchiere si dava ragione da sé io l'avevo detto così non poteva durare mio nipote a un certo modo al fresco del vestibolo la conversazione si prolungava padrone e servo discorrevano intimamente da pari a pari mescolando il fumo della pipa e del sigaro anzi quantunque pasqualino non fosse elegante come un tempo pure sembrava il padrone e don eugenio il creato il guardaportone tra scandalizzato ed invidioso della confidenza che il cavaliere accordava al cocchiere spasseggiava dignitosamente dinanzi all'entrata con le mani sul dorso del sopravvitone gallonato chi è quel pezzo di straccione gli domandavano i commessi dell'amministrazione uscendo dopo il lavoro uno zio del signor principe dice e tutto sommato fu la migliore accoglienza che ebbe il povero don eugenio il domani egli cominciò il giro dei parenti che erano in città andò prima di tutti dal fratello don blasco il monaco pareva sul punto di scoppiare il pancione gli si era imbottito di lardo e la testa ingrossata il mento si confondeva con la massa gelatinosa del collo non poteva muoversi per l'enormezza della persona per la fiacchezza delle gambe e accanto a lui donna lucia la moglie di garino sembrava svelta e leggera perché sei tornato disse al fratello appena lo vide entrare ed a modo di saluto aveva infatti ricevuto la circolare dell'araldo sicolo e comprendendo da quella che l'autore doveva aver l'acqua alla gola metteva le mani avanti per evitare richieste di sussidi sono venuto per poco rispose don eugenio prima di tutto per rivedervi e poi per fare associati all'opera di cui ti ho mandato il manifesto e cominciò a enumerare gli insigni sottoscrittori sua altezza il bei di tunisi i vizir della reggenza i più gran signori palermitani il principe da lì il marchese di loiacomo il duca tale e il conte dall'altro e fece il monaco quasi per dire perché vieni a contarmi queste storie senza neppur domandare al fratello sei stato a tunisi che sei stato a farci oppure le firme di 20 municipi di 30 società di 8 biblioteche l'affare è magnifico a conti fatti dedotte le spese di stampa carta posta eccetera con le sole soscrizioni sinora raccolte il guadagno è assicurato ma debbo ancora girare mezza sicilia per fare associati se arriveremo a 300 resteranno 10.000 lire nette e io ti vorrei proporre di stampare insieme il libro il monaco lo guardò fisso nel bianco degli occhi sei pazzo perché o non credi forse che ci sia da guadagnare ti faccio conti in 4 e 4 8 ti faccio vedere le firme raccolte non voglio vedere niente credo benissimo e ti ringrazio tanto tieni per te le 10.000 lire il cavaliere ebbe un bel insistere col tono persuasivo insinuante d'un sensale o d'un mezzano e un bello sgolarsi per dimostrare a luce meridiana l'eccellenza della sua proposta don blasco continuava a rifiutare da prima seccamente poi alzando la voce poi gridando perché quel seccatore gli si togliesse dai piedi allora se non vuoi correre i rischi dell'affare fammi un favore i soscrittori non pagano anticipatamente mi occorre una somma per cominciare la stampa prestami un migliaio di lire non le ho ti cederò le firme più sicure le sceglierai tu stesso non le ho il cavaliere non si scorreggiava neppure adesso ridusse la domanda da mille a 800 e poi a 500 lire poiché il monaco continuava a rispondere cantilenando dall'impazienza non le ho non ho denari come debbo dirtelo don eugenio concluse pacatamente allora aspetterò finché sarei comodo non ho fretta prima debbo compire la sosprezione poi ti porterò a vedere le schede le domande i manifesti sperando di riuscire meglio con la sorella il cavaliere andò a rinnovare il tentativo con donna ferdinanda asciutta e verde come un aglio la zitellona pareva sfidare il tempo gli anni le passavano addosso senza mutarla ne aveva oramai 62 e non ne mostrava più di 50 solo le mani le si coprivano di rughe e si spolpavano e si ruvidivano a contar denari come a lavorare il ferro da zappar la terra anche lei aveva ricevuto la circolare dell'araldo sicolo ma vedendo il fratello cominciò a chiedergli notizie della sua salute di palermo delle persone che conosceva in quella città ascoltando con interesse i discorsi interminabili del cavaliere che incoraggiato da quelle buone disposizioni nominava un mondo di persone con le quali era come fratello ne narrava i casi con tanto interesse come se fossero corsi a lui in persona la separazione del duca proti tanto amico mio quella pazza della baronessa non mi volle darretta io al principe l'avevo detto caro emanuele pensaci bene le chiacchiere tiravano in lungo perché donna ferdinanda gli dava la corda ed il cavaliere non ne aveva neppur bisogno felice di mentovare le sue grandi relazioni palermitane e non sai la più bella notizia la figlia della palmi è sposa sì e con chi col mio amico memmo dufredi dufredi di casaura il nepote di cicciolo iacomo la prima nobiltà di palermo e parecchi milioncini di proprietà ma davvero una gran fortuna per la ragazza quell'intrigante del barone ha combinato ogni cosa ed ha preso memmo in trappola naturalmente come parente non potevo dire questo altrimenti sarei andato da ciccio per avvertirlo tuo figlio può trovare un partito migliore e poi quella ragazza ha un certo fare basta io non ho parlato tanto più che giusto quando si combinava la cosa ero a tunisi ah sei stato a tunisi e per fare che cosa che cosa niente per di porto e gli tossicchiava un poco tuttavia imbarazzato quasi confuso e poiché donna ferdinanda continuava a fargli domande per sapere se tunisi era una bella città quanto tempo c'era stato e via discorrendo il cavaliere quasi risolvendosi disse finalmente ci fui anche per raccogliere soscrizioni alla mia opera sai opera fece la zitellona con atto di meraviglia qual opera come non hai ricevuto il manifesto io non ho ricevuto niente l'araldo sicolo la storia della nobiltà tu tu stampi un'opera e scoppiò in una di quelle sue rare risate che pungevano nel vivo donna eugenio che aveva sostenuto in perterrito tutti i rifiuti del monaco si sconcertò all'ilarità della sorella perché domandò tentando di rialzare la propria dignità di cui donna ferdinanda faceva ludibrio con quelle rise indecenti non sono forse buono a scriverla come tanti altri e la risata non finiva quando il vecchio spiegò che il libro aveva scritto essa divenne più fine più ironica più tagliente una storia della nobiltà dopo il mugnose e il villa bianca per ficcarci dentro gli arricchiti che si facevano dare del cavaliere e del marchese la nobiltà autentica era tutta scritta nei libri antichi e il cavaliere tentava almeno di dimostrare la bontà della speculazione ma la zitellona non gli dava quartiere guadagnare con la carta sporca per chi mai la carta sporca ha avuto valore forcheppe i pizzicagnoli e chi avrebbe comprato un libro di lui si sarebbero messi a ridere come rideva lei le firme le avevano date per levarselo di torno bisognava vedere quanti avrebbero poi pagato almeno mi presti qualche centinaio di lire no perché non me le restituiresti e ogni altra insistenza fu inutile andato a ripetere il tentativo dalla nipote chiara donne eugenio non potenne pure vederla la cameriera gli disse che il marchese era fuori e la marchesa chiusa in camera col dolor di capo dille che c'è suo zio vostra eccellenza scusi ma quando ha il dolor di capo nessuno può parlare alla signora marchesa e facendo il cavaliere un atto di impazienza la donna mormorò guardandosi attorno eccellenza c'è guai che guai la marchesa ma signor cavaliere per carità non mi faccia perdere il pane pazza per marito è vero eccellenza tutta una cosa quello che voleva il signor marchesa era legge per lei né il padrone ne abusava d'amore d'accordo in tutto e per tutto adesso adesso non c'è più pace per quel figlio di chi so io un diavolo dell'inferno eccellenza e la padrona che non ci vede dagli occhi dal tanto bene che gli vuole lo lascia fare lo difende contro il padrone litigano tutti i giorni perché il signor marchese vorrebbe correggerlo insegnargli l'educazione obbligarlo a studiare e invece la nipote di vostra eccellenza se la prende col padrone perché le maltratta il ragazzo ieri vennero alle grosse non si parlano da 24 ore il signor marchese è uscito di casa all'alba chissà se torna e per quanto insistesse don eugenio non poté persuadere la cameriera ad affrontare il malumore della padrona portandole l'ambasciata allora egli andò a battere alla porta dei giulente arrivò da loro sull'annottare dopo una giornata di corse benedetto non c'era e lucrezia non si riconosceva più tanto se era trasformata ed imbruttita il corpo era diventato un sacco di carne dove non si distinguevano più né seno né vita né fianchi il viso dalla continua acrimonia che la animava dall'inguaribile scontento della propria condizione era divenuto duro arcigno inaspettatamente rassomigliante a quello del principe e il primo discorso che tenne allo zio rivedendolo dopo tanti anni fu giusto contro benedetto non c'è non sta mai in casa adesso che non è più sindaco si è fatto nominare presidente del consiglio provinciale per amor della patria vostra eccellenza mi capisce più invecchia e più bestia diventa è un pazzo ma la disgrazia è che fa impazzire anche me dopo vent'anni e la calcolava il tempo a modo suo un altro che non fosse tanto bestia avrebbe capito l'inutilità di fare il servitore a questo e a quello invece pare l'uovo al fuoco più sta e più indurisce vuole essere deputato per che cosa domando io dopo che sarà deputato che cosa avrà buscato a fare il sindaco ha guadagnato questo che nessuno lo può vedere neppur quelli ai quali ebbe la stupidaggine di rendere servizio bene gli sta verso la propria famiglia e l'aveva ancora quel misto d'astio di invidia e di premura secondo che il vanto di farne parte il dolore d'averla lasciata o il sospetto d'esserne ripudiata predominavano nel suo cervello anche ora parlando del viaggio del principe e la ripeteva con insistenza che il fratello e la cognata le scrivevano ogni due giorni e riferiva il contenuto delle loro lettere annunziava il loro ritorno per l'autunno poi cominciava a criticare ed ammalignare hanno fatto bene a prendere essi stessi teresina dal collegio e a farla viaggiare mia cognata è un'altra madre per questa figliastra dal tanto amore l'ha tenuta due anni più del bisogno in collegio per farne una letterata graziella si intende molto di letteratura però subito dopo soggiunse vostra eccellenza non ha visto l'ultimo ritratto di teresina no aspetti vedrà che bellezza me l'hanno mandato due mesi addietro di consalvo però riprese dopo che ebbe mostrato il ritratto allo zio né nuova né vecchia come se non fosse loro figlio anche lui senza le lettere che scrive alla zia non sapremo se è vivo o se è morto adesso dice che è a parigi è stato a berlino a londra a vienna il cavaliere non ludiva rimuginando il discorso da tenerle appena la nipote fece una pausa egli espose la speculazione ideata che riuniva l'immancabile riuscita finanziaria alla nobiltà dello scopo ma lucrezia storia della nobiltà replicò dove più la nobiltà che storia vuole scrivere vostra eccellenza adesso sono in favore illustra scarpe non i nobili per essere considerati bisogna venire dal niente scriva piuttosto la storia dei villani e dei mastri notari in quella sì che c'è da guadagnare imperturbabile don eugenio ricominciò il giorno seguente dai radalì uzeda trovò il duca michele e il barone giovannino la duchessa era fuori di casa michele a 25 anni perdeva i capelli e pareva vecchio del doppio giovannino era invece più grazioso di prima fine elegante udita la richiesta del parente entrambe risposero che solo la madre gli avrebbe potuto dare risposta il giorno dopo il cavaliere tornò a parlare con la duchessa e questa cadde dalle nuvole io stampare libri e come mai vi viene in testa una cosa simile sono molto di queste cose io e don eugenio ci rimise le pedate ma egli non si perdette d'animo dai lontani parenti passò agli amici ai semplici conoscenti alle persone che incontrava per istrada e che fermava col pretesto di rivederle e salutarle cominciava a riferire come se le avesse avute direttamente le notizie del principe di consalvo apprese da lucrezia s'addolorava per la lite fra padre e figliuolo annunciava il ritorno della principessina che diceva d'aver visto a firenze una bellezza da svalordire e poi parlava del suo soggiorno di palermo descriveva l'appartamento di dieci stanze che aveva abitato sul cassaro drappeggiandosi maestosamente nell'abito lercio esdrucito che diceva la miseria la fame le ignobili promiscuità riferiva ancora il viaggio di tunisi l'onorificenza beilicale ma senza spiegare a qual titolo l'avesse ottenuta che cosa avesse precisamente fatto alla corte di sua altezza e quando aveva bene intontito la gente con tutti quei discorsi domandava bruciapelo avete ricevuto il mio manifesto e riesponeva il concetto dell'opera e numerava le adesioni ricevute ogni volta queste crescevano di numero le firme dei privati salivano da 200 a 300 a 4 a 500 quelle dei municipi sommavano a 50 a 70 a 90 le biblioteche si moltiplicavano da un momento all'altro mille sottoscrittori erano già sicuri un altro migliaio non potevano mancare e offriva la compartecipazione si restringeva all'anticipo da ultimo dichiarava di contentarsi di 12 firme di 6 anche di una per levarselo di torno la gente prometteva ambiguamente ma egli prendeva nota dei nomi in un suo portafoglio unto e squarciato unicamente imbottito di circolari e di schede delle quali faceva nuove distribuzioni ficcandole in tasca a chi rifiutava col gesto raccomandando di diffonderle di riempirle al più presto dopo una giornata di lavoro nel momento che stava per rientrare nell'albergo incontrò benedetto che ne usciva eccellenza come sta ero venuto a trovarla mi dispiacque tanto ieri di non essere in casa un poco imbarazzato don eugenio lo invitò a salire su in camera una camera col pavimento affossato due strisce di tela bianca a guisa di tendine dinanzi alla finestra una catinella sopra una seggiola e una brocca per terra ho dovuto venire qui perché al grande hotel era tutto pieno come si sta male in questa città a palermo avevo un appartamento di dodici stanze bisognava vedere che scale e nonostante il rifiuto postogli da lucrezia e gli cavò di tasca le circolari ed entrò subito in materia tua moglie non t'ha detto sono venuto per stampare la mia opera per ventimila lire non la cederei a nessuno ma non ho quattrini da cominciare la stampa vogliamo farla insieme spartiremo i guadagni da buoni parenti ed amici giulente esita un poco poi domandò che ha detto lucrezia tua moglie ha detto di sì solo che tu ti persuada della convenienza della cosa guarda un po e non capendo nei panni dalla gioia ad aver trovato finalmente uno che non rifiutava gli sciorinò dinanzi alcune schede con qualche firma va bene va bene già che lucrezia approva se anche mutasse parere in fin dei conti potremmo fare a meno del suo consenso benedetto esita un poco poi disse no signore è necessario perché adesso i denari li tiene lei come i denari tu non puoi disporre di qualche migliaio di lire eccellenza no gli affari pubblici mi portavano via molto tempo ho ceduto a lei l'amministrazione pubblici mi portavano via molto tempo ho ceduto a lei l'amministrazione pubblici mi portavano via reach por dire profit a lei l'amministrazione pubblici mi portavano viaquetri l'amministrazione Grazie.